E' una chiamata di popolo, è anche l'occasione per ringraziare tutti i volontari e tutti quelli che sono qui presenti oggi. Direi che una corsa senza premi, tutta di volontari, una corsa peraltro che è dedicata alle famiglie di coloro che si sono suicidati, è la volontà anche di fare una corsa contro la crisi, quindi corriamo contro la crisi, sta chiamando un sacco di gente, e quindi un ringraziamento a tutti i volontari e ai tanti che sono qui questa mattina.